bene cari studenti e care studentesse di quintenne so che è sabato sera e che quindi la matematica è probabilmente l'ultima cosa a cui avete voglia di pensare vi faccio comunque questo video così poi ve lo guardate domani con calma domenica o anche lunedì o martedì o mai insomma vedete voi l'idea di proporvi un paio di esercizi presi dall'esame di maturità dell'anno scorso quindi siamo proprio a ridosso temporalmente al 2020 scusatemi non dell'anno scorso che l'anno scorso non c'è stato lo scritto di matematica chiaramente parliamo di due anni fa è lo scritto di matematica del 2019 in particolare volevo far vedere i primi due quesiti che sono tutto sommato affrontabili in maniera piuttosto semplice e che ci permettono anche di vedere come lo scritto di matematica della prova conclusiva dello scientifico non è una cosa così impossibile a cui pensare va bene non sappiamo ancora se quest'anno ci sarà ma noi facciamo finta che ci sia fino alla fine va bene allora leggiamo la prima delle due domande le domande erano otto l'anno scorso non scusatemi di nuovo due anni fa bisognava scegliere quattro di queste otto domande due no scusatemi tre erano essenzialmente di fisica e quattro di matematica ok vediamo oggi stasera poi gli altri faremo comunque faremo tutto il compito anche i problemi che erano abbastanza lunghi uno dei due problemi lo abbiamo già affrontato faremo il secondo e concluderemo il primo ma vediamo stasera appunto i primi due quesiti allora il primo quesito è relativo a una funzione f di x reale una data funzione esprimibile nella forma f di x uguale p di x fratto di squadro più d dove d è un numero reale e p di x è un polinomio quindi queste sono le informazioni che sappiamo è una funzione fratta razionale con al numeratore denominatore due polinomi il denominatore sappiamo già che è un polinomio di secondo grado con termine noto non no non sì termine noto non noto comunque da determinare e il numeratore invece è un polinomio in linea di principio qualunque però sappiamo ed ecco le informazioni che ci permetteranno di determinare sia il polinomio che di sappiamo che il grafico di questa funzione interseca l'asse delle x nei punti di ascissa 0 e 12 quinti ed ha poi questa funzione tre assintoti mi dice le rette di equazione x uguale a 3 x uguale a meno 3 che sono due assintoti verticali e y uguale a 5 che è un assintoto orizzontale mi chiede di determinare punti di massimo e di minimo relativi della funzione f allora la strategia con cui risolveremo adesso questo problema è la seguente useremo le informazioni sul grafico per determinare in maniera univoca sia il polinomio al numeratore che questo numero d una volta che l'abbiamo determinata abbiamo una funzione di cui ci chiede massimo e minimo relativo useremo la derivata per determinare appunto i massimi e i minimi di questa funzione ok questa è la strategia mi fatemi aprire la lavagna avrei dovuto farlo prima in preparazione del video scusate come al solito faccio pasticci quindi apriamo la nostra lavagna su un po poi dopo la ingrandisco per ora teniamo tutte e due contemporaneamente aperte il file pdf e la lavagna e andiamo quindi a riportarci la nostra funzione la funzione f di x è nella forma px fratto x quadro più 2 dove d è un numero reale e p di x è un polinomio in x chiaramente e di questa funzione sappiamo 1 si annulla interseca l'asse nei punti 0 e 12 quinti l'asse delle x quindi vuol dire che f di 0 è uguale a 0 ed f di 12 quinti è uguale a 0 dire che ha intersezione con l'asse delle x in questi due valori vuol dire che la funzione si annulla e poi sappiamo che ha due assintoti verticali due assintoti verticali in x uguale a più e meno 3 e la terza cosa abbiamo un assintoto orizzontale in y uguale a 5 vediamo come queste cose sono sufficienti a determinare la funzione ingrandiamo la lavagna e proviamo a lavorare partiamo dall'ultimo dalla condizione 3 sappiamo quindi che il limite per x che tende a più e anche a meno infinito ma ci basta più infinito di p di x fratto x quadro più 2 deve essere uguale a 5 ok ma allora siccome questo denominatore tende all'infinito e questo è un polinomio anche che tende all'infinito se il limite del loro rapporto deve essere un numero vuol dire che i due polinomi hanno lo stesso grado non solo il grado massimo quindi il polinomio p di x è di secondo grado il coefficiente dovrà essere 5 ok quindi da questo stabiliamo subito che p di x dovrà avere e diciamo di secondo grado e il termine x quadro ha come coefficiente 5 in quanto abbiamo visto insieme che i polinomi quando vado all'infinito si comportano come monomi di grado massimo e quindi il monomio di grado massimo sarà chiamiamolo a x alla seconda questo limite diventa il limite per x che tende a più infinito di ax alla seconda fratto x alla seconda che è uguale a ma deve essere uguale a 5 e quindi abbiamo trovato che il coefficiente del termine x quadro deve essere 5 deve essere di secondo grado no px perché se fosse di grado superiore al secondo per esempio terzo quarto quant'altro questo limite verrebbe infinito e se fosse di primo grado o addirittura di grado 0 questo limite verrebbe 0 quindi l'unico modo per avere questo limite pari a 5 è che il polinomio p di x abbia un termine massimo di secondo grado con coefficiente pari a 5 e abbiamo usato il punto 3 ok poi sappiamo anche già gli zeri di questo polinomio che sono 0 e 12 quinti quindi questa questa informazione e anche 1 quindi la condizione numero 1 ci permette di dire che il polinomio p di x sarà della forma 5 x per x meno 12 quinti infatti vedete quando x uguale a 0 questo fa 0 quando x uguale a 12 quinti questo fa 0 e questo è un polinomio di secondo grado il cui coefficiente di grado 2 è proprio 5 infatti se moltiplico viene 5 x quadro meno 12 x verificare per credere questo in 0 fa 0 in 12 quinti questo qua fa 0 di nuovo perché viene 12 al quadrato fratto 5 al quadrato per 5 fa 12 al quadrato quinti e questo fa 12 al quadrato quinti comunque si vede dalla forma fattorizzata ok quindi abbiamo trovato p di x usando l'uno e il 3 quindi il 2 ci servirà a trovare di effettivamente ricordatevi che se una funzione ha un assintoto verticale sopra un polinomio lo abbiamo appena stabilito vuol dire che in più e meno 3 il denominatore deve fare 0 perché per avere un assintoto verticale si deve annullare il denominatore quindi denominatore uguale a 0 in x uguale più o meno 3 e quindi vedete subito che d deve essere 9 anzi scusate meno 9 infatti se d è meno 9 quando x uguale a 3 viene 3 al quadrato 9 meno 9 è 0 ok e se è meno 3 meno 3 al quadrato 9 meno 9 è 0 quindi abbiamo trovato la nostra funzione f di x è 5 x quadro meno 12 x fratto x al quadrato meno 9 potete a questo punto come dire verifica di quello che avete fatto controllare che effettivamente questa funzione in più o meno 3 il denominatore si annulla il numeratore no e quindi abbiamo un assintoto verticale limite per is che tende all'infinito viene 5 x quadro x quadro 5 come richiesto dal fatto che ha un assintoto orizzontale in y uguale a 5 in più si annulla l'abbiamo già verificato prima in 0 e 12 quinti ottimo adesso che abbiamo trovato la funzione ricordatevi che la domanda a cui dobbiamo rispondere era questa qua determina i punti di massimo e minimo relativi della funzione quindi una volta che abbiamo la funzione la strafa la derivata quindi l'esercizio diventa un semplice esercizio di derivata la derivata di questa funzione questa è una frazione quindi sarà il denominatore al quadrato x quadro meno 9 al quadrato il numeratore lo deriviamo e quindi otteniamo 2 per 5 10 x meno 12 che moltiplica il denominatore x quadro meno 9 meno il numeratore 5 x quadro meno 12 x per la derivata del denominatore che è 2 x ok potrebbe venire il panico perché uno dice ma ci sono dei termini cubici ok però vedrete vediamo subito sfide subito 10 x per x al quadrato fa 10 x al cubo e qui abbiamo meno 5 x al quadrato per 2 x che fa meno 10 x al cubo i termini cubici vanno via quindi diventerà facile trovare gli zeri della derivata scusate è andato giù tutto credo che sia saltato per un attimo la corrente per cui mi si è spento il computer e per fortuna avevo il salvataggio automatico ho perso cinque minuti di registrazione va bene ripartiamo da qua dicevamo questa la derivata quindi svolgiamo tutti i passaggi vabbè pazienza viene 10 x al cubo meno 90 x meno 12 x al quadrato più 12 per 9 che fa 90 più 18 108 ok meno 10 x al cubo tata si semplifica con questo e poi abbiamo più 24 x al quadrato quindi 10 x al cubo meno 10 x al cubo va via 24 meno 12 x al quadrato 24 x al quadrato meno 12 x al quadrato fa 12 x al quadrato poi abbiamo meno 90 x più 108 il tutto fratto x quadrato meno 9 al quadrato ok dovrebbe essere questa va bene a questo punto siamo interessati a derivata uguale a 0 e al segno della derivata per trovare massimi e minimi no? questa ricordatevi è la derivata della nostra funzione il denominatore è un quadrato per cui è sempre positivo tranne che nei punti in cui si annulla più o meno 3 dove però chiaramente non può esserci alcun massimo minimo in quanto sono assintoti verticali quindi ci interessa essenzialmente solo il numeratore quindi chiediamoci intanto dov'è che il numeratore più 108 è uguale a 0 possiamo raccogliere un 6 che moltiplica 2 x al quadrato meno 15 15 per 6 è uguale a 30 sì x più 18 uguale a 0 da cui x uguale a 15 più o meno la radice di 15 al quadrato meno 4 per 2 8 per 18 tutto quanto fratto 4 allora 15 al quadrato fa 225 8 per 18 fa 144 la differenza fa 81 quindi questa radice viene 9 quindi x uguale a 15 più o meno 9 fratto 4 abbiamo due possibili soluzioni 15 più 9 fa 15 più 9 fa 24 24 quarti quindi 6 e 15 meno 9 fa 6 quarti quindi 3 mezzi abbiamo trovato il 0 per quanto riguarda la positività questa è 12 x al quadrato meno 90 x più 108 maggiore di 0 all'esterno quindi delle due soluzioni quindi x minore di 3 mezzi e x maggiore di 6 quindi la situazione è la seguente abbiamo in 3 mezzi e in 6 la derivata che si annulla e poi è positiva e poi è positiva positiva e negativa questo è lo schema del segno della derivata la derivata quindi la funzione scusate cresce dove la derivata è positiva decresce dove negativa ricresce quindi il punto 3 mezzi è un massimo e il punto 6 è un minimo per trovare i valori di massimo e minimo basterà sostituire 3 mezzi e 6 nella funzione lo lascio come esercizio va bene il valore di massimo si otterrà quindi 3 mezzi è il punto e la x in cui si ha il massimo e il valore massimo si ha calcolando f in 3 mezzi e il minimo sarà f di 6 ok e lascio a voi appunto calcolare questi due valori va bene? quindi questo era l'esercizio la parte difficile della prima parte capire da queste condizioni sulla funzione trovare il polinomio p di x e di però abbiamo visto non era particolarmente complicato andiamo a vedere il secondo esercizio che trovo anche questo particolarmente istruttivo viene assegnata questa funzione apparentemente molto molto complicato è una sommatoria vi ricorderete spero questo simbolo l'abbiamo usato diverse volte negli anni passati questo simbolo significa sommo per n che va da 1 fino a 1010 x alla 2n-1 quindi quando n uguale a 1 qui viene 1 quando n uguale a 2 viene 3 quando n uguale a 3 viene 5 3 per 2 è 6 meno 1 è 5 eccetera eccetera cioè questi sono i numeri dispari partendo da 1 quindi questa è la somma dei primi 1010 numeri dispari quindi x più x al cubo scusate delle prime 1010 potenze dispari di x quindi x più x al cubo più x alla quinta più x alla settima fino a x alla 2 sono stati gentili al ministero quell'anno hanno esplicitato questo fatto senza lasciare a voi come dire il compito di capire che questa sommatoria era la somma delle prime 1010 potenze dispari di x comunque eccolo qua l'abbiamo qua provare la domanda è provare che esiste un solo x con 0 reale in cui la funzione si annulla quindi questo è un po' i nomi di 2019 grado è chiaro che non possiamo neanche lontanamente pensare di andare a risolvere l'equazione questo uguale a 0 e ci chiede di determinare essenzialmente che c'è un solo punto che ci sia un punto è abbastanza immediato x uguale a 0 sicuramente fa questa funzione questo po' i nomi non si annulla perché non c'è il termine in 8 quindi in x uguale a 0 questa funzione fa 0 quindi 1 l'ho trovato non c'è neanche bisogno di fare quando ho letto l'equisito prima stavo pensando adesso vado e gli faccio tutto il discorso sui limiti perché? perché questo è un polinomio di grado dispari quindi a più infinito tenderà a più infinito ricordatevi all'infinito un polinomio si comporta come il monomio di grado massimo quindi x alla 2019 a più infinito tende a più infinito e a meno infinito siccome la potenza è dispari tende a meno infinito quindi è un polinomio che cambia segno se vi ricordate per il teorema di Bolzano cambiando segno sulla retta sul suo dominio ci deve essere almeno un punto in cui il polinomio si annulla ma senza bisogno di fare tutto questo mi accorgo subito che questo in 0 vale 0 quindi che ci sia uno 0 è immediato o appunto verificando che il polinomio a meno infinito va a meno infinito e a più infinito va a più infinito e quindi fatemi riaprire a questo punto la mia lavagna questo è il quesito 2 abbiamo appena detto che il limite per x che tende a più infinito di g di x è uguale al limite per x che tende a più infinito del monomio di grado massimo quindi x alla 2019 e questo è più infinito e a meno infinito fatemelo scrivere sullo stesso limite vale lo stesso ragionamento ma essendo questo dispari a meno infinito questo va a meno infinito quindi questo polinomio da questa parte quindi quando vado con le x verso meno infinito il polinomio scende giù ha valori quindi negativi quindi deve essere per forza negativo da un certo punto in poi e quando vado da questa parte va a più infinito quindi vale su e quindi deve essere positivo quindi il polinomio che tra l'altro è una funzione continua deve cambiare segno per cambiare segno non può fare altro che passare attraverso l'assere di x il teorema di Bolzano che vi avevo accennato ok quindi esiste sicuramente esiste almeno 1, 0 cioè un punto x con 0 scusatemi tale che g di x con 0 è uguale a 0 ma ripeto senza bisogno di fare questo ragionamento uno vede subito che di g di 0 fa 0 perché il polinomio non contiene termini noti quindi mettendo 0 tutti i termini si annullano quindi che intersechi l'assere le x almeno in un punto è immediato adesso dimostriamo che interseca la serie di x in un solo punto e quindi peraltro l'abbiamo anche già trovato anche se non era richiesto perché dico questo? beh perché allora ricordiamoci g di x è x più x al cubo più x alla quinta più x alla 2017 più x alla 2019 sono tutti dispari quindi la derivata di questo polinomio sarà la derivata di x è 1 più 3x al quadrato più 5x alla quarta più eccetera eccetera fino a 2017 x alla 2016 più 2019 x alla 2018 giusto? la regola per cui la derivata di una potenza si porta l'esponente davanti e si diminuisce di 1 ma se guardate bene questa derivata vedete subito che questa derivata è sicuramente positiva perché ha 1 che è positivo più potenze pari che non sono mai negative quindi questa derivata si vede subito è sicuramente maggiore di 0 per ogni x ok? quindi la funzione è sempre crescente e allora mi viene in mente il teorema di Rolle per assurdo immaginiamo che ci siano ci siano due zeri cioè due punti chiamiamoli is con 1 in cui la nostra funzione si annulla ma in questo modo g di is con 1 è uguale a g di is con 2 quindi abbiamo una funzione che in due punti assume lo stesso valore è continua perché è un polinomio ed è derivabile perché di nuovo è un polinomio la derivata l'abbiamo anche esplicitata ed è derivabile quindi soddisfa il teorema di Rolle l'ipotesi del teorema di Rolle e quindi per il teorema di Rolle ci deve essere almeno un punto c appartenente all'intervallo x con 1 x con 2 immaginiamo che x con 1 sia più piccolo di x con 2 tale che la derivata prima di c è uguale a 0 questo è il teorema di Rolle scusate la derivata di g è uguale a 0 ma abbiamo appena visto che la derivata di g è sempre positiva non può far 0 e quindi le ipotesi sono sbagliate ricordatevi abbiamo visto in prima le dimostrazioni per assurdo e quindi non può essere che ci siano due zeri e così è chiaro che non ce ne possono essere 3, 4, 5 ecc quindi ce ne può essere al massimo 1 1 lo abbiamo già trovato o comunque abbiamo dimostrato con Bolzano che ci deve essere e quindi esiste esattamente un solo 0 va bene? intuitivamente se questa funzione deve annullarsi in 0 ed è sempre crescente ok? supponiamo che ci sia un altro punto in cui si annulla la funzione se è sempre crescente dovrebbe a un certo punto tornare giù ma non può no? perché è sempre crescente la sua derivata non può diventare negativa tra l'altro se tornasse giù avrebbe un massimo e quindi una volta che ha toccato questo 0 non può toccare l'asse dell'x in altri punti stessa cosa prima se ci fosse un punto prima la funzione dovrebbe fare qualcosa del genere ma anche questo è impossibile ok? perché avrebbe una derivata negativa non sarebbe più sempre crescente la funzione deve per forza avere un andamento sempre crescente quindi questo è come dire il modo intuitivo per dimostrarlo ma il modo certo e in qualche modo più sicuro è usare per assurdo il teorema di Rolle ok? ah no l'esercizio non era finito scusatemi chiudo perché veramente sabato sera mi dispiace tenervi svegli e svegli anche se tanto so che guarderete questo video in chissà quale altro momento certo non stasera mi chiede di determinare inoltre il valore di questo limite limite per x che tende a più infinito di g di x fratto questa cosa strana 1,1 alla x ok? allora questo è un polinomio questo è un esponenziale vi ricorderete che abbiamo già dimostrato in classe che applicando il teorema di De L'Hôpital un numero sufficiente di volte questa è una forma indeterminata no? questo è infinito perché il polinomio più infinito è infinito e anche l'esponenziale essendo con base maggiore di 1 a più infinito questo tende a più infinito quindi forma indeterminata usando De L'Hôpital riusciamo a diminuire di grado questo polinomio mentre l'esponenziale voi sapete ha meno di un fattore logaritmo di 1,1 e quando faccio la derivata dell'esponenziale rimane l'esponenziale quindi usando De L'Hôpital riesco a diminuire il grado di g lasciando il denominatore essenzialmente l'esponenziale se faccio De L'Hôpital 2019 volte anzi no scusatemi 1010 volte quindi faccio 1010 volte la derivata no mi sa che mi serve proprio 2019 volte no? perché la derivata di g diventa 2018 il termine più grande allora lo riderivo diventa 2017 2016 2015 eccetera eccetera quindi se applico De L'Hôpital in questo caso 2019 volte alla fine qui otterrò una costante un numero che non mi interessa neanche stabilire quanti il fatto è che diminuisco di grado il polinomio ogni volta che applico il teorema De L'Hôpital e quindi essendo di grado 2019 dopo 2019 il grado diventa 0 cioè un numero una costante quindi a quel punto sopra abbiamo una costante sotto avremo un esponenziale con un coefficiente davanti che sarà il logaritmo di 1,1 alla 2019 ma comunque un numero e quindi numeratore un numero denominatore un esponenziale che tende a infinito numero fratto infinito 0 ok? e quindi questo tende a 0 e d'altra parte ne abbiamo già parlato in classe l'esponenziale cresce più rapidamente di qualunque polinomio anche di grado 2019 quindi quando abbiamo un rapporto di infiniti e al numeratore c'è un polinomio e al denominatore un esponenziale con base maggiore di 1 chiaramente vince l'esponenziale quindi questa frazione tende a 0 va bene? va bene per stasera è tutto come al solito spero che stiate tutti e tutte bene e noi ci vediamo lunedì in classe ho cambiato microfono spero che si senta come l'altro eventualmente potete scrivermi per lamentarvi buonanotte grazie grazie Grazie.